Carissimi amici, carissime amiche, buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati. Caso Liliana Resinovic, torneremo oggi a parlare delle telecamere, delle telecamere stradali, delle telecamere della polizia. Seguitemi, seguitemi che diremo delle cose abbastanza importanti. Ma prima di questo, quindi perciò seguitemi dopo nel video, prima di ciò potrei fare un breve commento a quello che è stato fatto vedere ieri. Ad esempio, possiamo commentare quella trasmissione così famosa, no? Porta a porta con Bruno Vespa. Ora, per carità, lungi da me poter criticare un maestro del giornalismo e della tv come Bruno Vespa, però il format, almeno come è stato impostato ieri sera, in cui si trattavano diversi casi di cronaca, è stato dedicato pure un pezzettino, ecco, direi tutto sommato pochi minuti, al caso, a questo caso qui, di Liliana Resinovic, con ospite in studio Sebastiano, che ha detto qualcosa, ma alla fine è tutto così molto superficiale, ma la superficialità nasce e si vede soprattutto dal fatto, da una domanda che alla fine Bruno Vespa, che sentiva, ascoltava quasi come uno spettatore disinteressato, domanda a Sebastiano, ma lei è mai stato indagato riguardo a questo caso qui? E giustamente Sebastiano dice no. Ecco, trovo grave, ecco, che il giornalista domandi dopo tanto tempo, dopo anni, se è stato indagato. Quindi, ciò significa che, evidentemente, con, per carità, i mille impegni che uno sa, ma, che uno sa, ma in quel caso lì, in questo caso qui, ovviamente, per fare una domanda del genere, significa che il caso non è stato, diciamo, studiato, non è stato vagliato, non è stato approfondito, capite? E l'ho trovata veramente strano, questa cosa qui. C'era anche la criminologa, amica Anna Vagli, che, insomma, insiste su un qualcosa che a me ha sempre, ed è stato meraviglia, cioè dice, per me l'ipotesi è della morte del 14 dicembre, perché dove sarebbe stata, dove sarebbe stata la, la povera Liliana? Perché, evidente, la giustura ha qualsiasi altra ipotesi alternativa. Dove sarebbe stata perché si riflette sul fatto che lei poteva andare via solo su sua volontà, non per costrizione, quindi perciò si dice dove sarebbe stata, come dire, e poi ci sono i residui della colazione nel suo stomaco. E allora diremo sempre le stesse cose. Residui della colazione cosa? Anche no. Innanzitutto perché Sebastiana non ha fatto colazione con lei, e residui genetici, l'uvetta, queste cose, ma è una colazione di routine, che bene o male, diciamo, si può ripetere con poche varianti tutti i giorni. Quindi, questo è, porta a porta è stato questo, niente di che, l'unico, l'unico aspetto positivo è che non è stato come le altre trasmissioni, in cui c'era poi lo spazio per il siparietto dedicato a Serpin, che doveva dire amore amore, amante amante, e questo qui ce l'hanno, fortunatamente, risparmiato. Ora, diciamo che è stato anche, c'è anche, insomma, incida sempre l'ipotesi del suicidio, che per me non è un'ipotesi, insomma, percorribile, e anche perché lo dicono tutti, lei aveva interesse alla vita, ma anche dal punto di vista del marito stesso, che pure qualche volta dice, magari si è suicidata, però se è vero che lei faceva queste ricerche delle case, per trovare la casa con il garage, ad esempio, no? se erano andate, come sempre, effettivamente, perché c'è anche la testimonianza, nell'agenzia di viaggio, che a febbraio loro dovevano andare in Brasile, allora bisognerebbe pensare, allora che sia successo qualche fatto eclatante, per far cambiare idea a una persona che ha dei progetti, a togliersi la vita, poco probabile. Allora, io ritengo che oltre, ovviamente, alla pista economica, voi sapete, da me, prediletta, ma c'è anche l'ipotesi, ci sono altre ipotesi, sono ipotesi anche che Liliana potesse aver scoperto qualcosa di grosso, qualcosa di compromettente, che fosse incaricata di scoprire, magari qualche giro compromettente di qualcosa. Certamente c'è troppa omestà e troppe stranezze in queste indagini. Perché, poi, l'idea va anche al fatto che molti degli amici comuni, degli amici di Liliana in particolare, erano ex forze dell'ordine. Quindi, chi ce lo dice che lei non potesse essere qualcuna che doveva assumere anche informazioni perdere ragioni di giustizia? Sono ipotesi. Allora, quando mi si dice, eh, vabbè, ma queste sono solo ipotesi, però, certamente, meglio queste ipotesi che io trovo più ragionevoli che poi andare appresso a queste cose, la storiella d'amore, che quella proprio non si può sentire. quindi, poi un'altra cosa, quando sento, ad esempio, la cugina Silvia che dice, ma non si vede che è stata picchiata la povera Liliana, quel volto tu mi hai fatto? E allora dico, ma è possibile che questo volto così insanguinato tu mi hai fatto? Debba però sempre essere fatto di salire al marito, al marito che magari esce di casa, la raggiunge in città, la picchia, la uccide e non si sa come e perché, come fa, la restituisce dopo 20 giorni, ancora così col volto insanguinato. Come è possibile sorvolare su tutti questi particolari? Per avallare quelle che è la grossa crepa, la grossa crepa di questa storia, un amore inventato che sostituisce certamente un altro tipo di rapporto che esisteva. Allora, adesso riandiamo alle telecamere. Ecco, parliamo un po' delle telecamere e facciamoci delle domande serie. Cioè, si è saputo che non c'era in effetti quello sfasamento dei cinque minuti e lo ha dimostrato, lo ha dimostrato Gabriella, l'amica vicina di casa con il suo contapassi che esce poco dopo Liliana da casa e mi fa piacere questo fatto che sia stata pura fatta vedere che lei esce da casa perché ciò serve a sfatare quell'altra diceria che si è anche detta per tanto tempo che Liliana non fosse mai uscita di casa faceva comodo dire no non è uscita di casa perché quello poi lui invece è uscita di casa e anche che quelle immagini si riferiscano proprio al 14 perché questo è testimoniato proprio dall'immagine che segue che fa vedere proprio la Gabriella che esce tre minuti dopo quindi che viene immortalata sulla stessa strada che oltrepassa gli stessi veicoli in sosta allo stesso posto quindi ecco che è questa una prova eclatante che non dobbiamo più parlare di una Liliana chissà forse un altro giorno forse è uscita di casa ed era quel 14 dicembre quindi questa è la prima cosa ora giunto ai cassonetti abbiamo che gli inquirenti cosa dicono dicono che lei si vede poi passare attraversare lì a piazzale gioperti però passano circa 8 minuti non è possibile no che abbia rallentato così tanto o si sia fermata boh perché dicono gli inquirenti no diciamo che le telecamere sono sfasate di 5 minuti così hanno certificato però peccato che ciò è stato dimostrato che non è vero non è vero perché il contapassi di Gabriella registra esattamente lo stesso orario delle telecamere e quindi le telecamere non erano sfasate allora come si spiega tutto ciò perché è stato detto perché è stato detto di questo malfunzionamento da dove nasce questa storia perché questa notizia viene data e viene accettata per vera e anche perché queste immagini non sono state diffuse prima ma non dico in tv per carità magari c'erano anche indagini ma perché non sono state fatte vedere ai familiari a tutti i familiari per quale motivo e allora ecco che c'è la suggestione che Larasinovic avesse qualche ruolo qualche ruolo delicato che spinge ad scriviare questa storia oppure oppure è stato fatto detto detto così giusto per far combaciare per rendere più credibile artificiosamente l'immagine di una Liliana che è lì attraversa a piazza Gioberti perché vedete noi abbiamo visto una Liliana proprio di corsa quasi di corsa che cammina a passo speditissimo poi arrivato lì poi per andare poche centinaia di metri a piazza di Gioberti diventa una formica una lumaca e quindi secondo me può essere pure che è stata fatta artificiosamente per far combaciare questo passaggio e per far combaciare pure la testimonianza di Iva di Iva l'affruttimento però questa testimonianza di Iva vedete c'ha una valenza minima tutto sommato perché per tre motivi in quanto lei ha visto questa figura passare così di profilo e poi di spalle ma il tempo di due secondi perché non ha saputo indicare con precisione l'orario e ci sta dice più o meno verso le nove non è che sta col cronometro a dire passati in quel minuto lì e anche che ha detto che era una mattinata buia senza sole quando invece quel 14 di dicembre era una mattinata di sole per cui potrebbe con tutta la buona fede la fruttimento la Iva essersi sbagliata essersi confusa o con la persona sbagliata o col giorno sbagliato quindi oggettivamente questa immagine di Liliana a Piazzale Gioberti è un'immagine lontana sfogata per cui non permette oggettivamente qualsiasi attribuzione certa per cui unitamente alla circostanza che lei andava a passo velocissimo e che è uscita sicuramente senza portare nulla con sé fa supporre che questo incontro questa sosta questa salita in auto molto probabile sia avvenuta prima di prendere la strada che passa per la fruttivendola e e allora ci si domanda ma è salita dove ma cosa doveva fare cosa doveva prendere consegnare c'era del denaro doveva consegnare informazioni doveva prendere informazioni forse era qualcosa di segreto di una segretezza che la costringeva all'anonimato perciò è uscita senza niente allora possiamo credere che lei doveva fare tutto ciò dicendo la barzelletta passa la wind poi poi vengo da te con lo serpino assolutamente no e allora domandiamoci forse qualcuno delle forze di polizia poteva essere a conoscenza anche di di un ruolo particolare che svolgeva la Resinovic sono supposizioni sono supposizioni mi rendo conto che sono supposizioni che non possono essere provate da uno che che ragiona e non ha altri elementi ma sono supposizioni più ragionevoli che credere alle stupide favole alle stupide favole si sa che non si può credere quello è il problema perché perché queste telecamere stradali e telecamere della polizia perché non sono state fatte visionare ai parenti questa è la domanda d'obbligo dal primo momento e poi attenzione adesso veniamo ad un'altra stranezza delle telecamere perché qualcuna di queste telecamere smette di funzionare in alcuni momenti in alcuni momenti non funzionano queste telecamere cosa voglio dire voglio dire che ad esempio quel 14 di dicembre alle ore 12.30 la Renault Clio di Serpin viene vista salire per via Damiano chiesa verso via Verrocchio allora noi sappiamo che lui ha detto vado avanti e indietro per farmi vedere per farmi l'alibi non si sa quest'alibi perché doveva servire perché parla di alibi perché parla di alibi ma lasciamo perdere ormai però è un fatto certo che anche lui dice io sono andato lì al cortile alla casa di Liliano per vedere se c'era la macchina di Sebastiano però le telecamere dicono qualcosa di leggermente diverso cioè dicono che la sua Renault Clio quindi guidata da lui sale alle 12.30 per via Damiano Chiesa verso via Verrocchio e non lo so forse non è questa la sosta da lui detta perché poi viene vista ridiscendere alle 12.33 30 secondi quindi tre minuti e mezzo dopo che è salita tre minuti e mezzo dopo ridiscende quindi poco probabile che sia questa la sosta perché sarebbe stata la sosta di un minuto o anche meno ma la stranezza è quella che succede dopo perché dopo un'ora cioè alle 13.30 la macchina risale di nuovo risale e stavolta accade qualcosa di particolare perché sale alle 13.30 e alle 13.45 non è ancora scesa quindi parliamo di una sosta evidentemente che si prolunga e non si sa quanto tempo perché voi mi direte ma quando è che è scesa poi la macchina dopo quanto tempo non si sa amiche miei e amici miei non si sa perché perché c'è un mistero ecco il mistero qual è è che quella telecamera che ha visto alle 13.30 salire lo serpino alle 13.45 smette di funzionare ebbene sì quella telecamera di via Damiano Chiesa che mostrata per la seconda volta a Serpino salire alle 13.30 direzione via Vesocchio alle 13.45 lui non è ancora scesa ma smette di funzionare casualmente non si sa per schede smette di funzionare non è stato mai spiegato insomma questa cosa per cui cosa se ne deduce da ciò che è stato almeno fino alle 13.45 lì cioè non era scesa ancora quindi che cosa fa cosa dobbiamo immaginare questa sosta quindi abbastanza lunga può essere 15 15 20 minuti mezz'ora non si sa non si sa che cosa che cosa fa perché alle 13.45 non era di scesa una sorta di blackout inspiegabile di questa telecamera e allora noi proviamo a immaginare no questa lunga sosta per fare cosa allora non certamente ha bussato a casa di Liliana quindi non ha chiesto a nessun condomino né soprattutto ha chiamato salvo non ha chiamato salvo e quindi e la cosa strana è che poi lui va via va via da lì evidentemente va via si allontana e poi chiama lo telefono quindi sarebbe stato molto più normale stando lì andate citofonate e chiamate no lo chiama un poco dopo quando se ne va via evidentemente e sono sono stranezze sono stranezze che non sono mai e poi mai state spiegate ma di stranezze dei vari personaggi dal 14 dicembre a 5 gennaio ce ne sono tante ma tante e parliamo anche di movimenti strani movimenti strani ma anche di Sebastiano che ad esempio va dalla cugina Silvia dove non andava mai in generale questa sorta di agitazione dà l'idea di di persone innocenti ma che si compostano da colpevoli perché lo fanno forse solo perché sanno qualcosa oppure per superficialità o sanno per sentito dire che Liliana possa essersi messa in qualche guaio la sensazione è questa che chi di più chi di meno sappiano che lei si è cacciata in qualche guaio serio vedete anche alcuni luoghi strani sperduti come ad esempio il vallone di Gorizia che cosa vi viene in mente quando dico il vallone di Gorizia cosa vi viene in mente questo vallone di Gorizia diventa emblematica perché quel 30 di dicembre casualmente Sebastiano deve andare ad aiutare il figlio e per questo stranamente chiama l'amico Risulio quello della carnea perché gli pressi una corda e soltanto che Risulio per prestare questa corda non è che abitava nel palazzo a fianco ma abitava circa a 120 chilometri di distanza vedete è strano e che cos'è che non è strano in questa storia però è anche suggestivo pensare che alcuni giorni prima sempre il 24 dicembre o il 23 o il 24 di dicembre proprio in quella zona del vallone di Gorizia è localizzato anche Claudio Serpino che vada amici per carità però in quella zona del vallone di Gorizia sono delle suggestioni parliamoci chiaro però fanno sempre pensare in sé vedete ogni singolo aspetto le telecamere le cose ogni singolo aspetto preso singolarmente non non è che vuol dire chissà cosa però tutti insieme formano un caos non si chiesto ma il meglio questa storia lo fornisce indubbiamente dal 5 gennaio in poi quando viene rivenuto il cadavere perché si assiste quella quel pomeriggio c'è un intervento in prima il sanomalo prima di tutti c'è la guardia di finanza ci sono le immagini televisive che lo testimoniano non si sa perché poi questo staff medico legale che parla immediatamente di suicidio come se avessero fretta di aschiviare e nel frattempo dal giorno 5 in poi decolla finalmente la storia di amore e così viene subito asicchita giorno dopo giorno e si consolida questo fronte anti-sebastiano per quale motivo c'è sempre un motivo in linea generale questa storia questa storiella finisce per essere per avere una funzione specifica di essere un enorme scudo ecco sulla intera vicenda uno scudo difensivo perché le centinaia di telefonate brevi esistenti centinaia centinaia vorrebbero essere spacciate per amorose ma non lo so neppure con un'abile strategia comunicativa si induce l'opinione pubblica a questa analizzazione e questa induzione finisce in qualche modo anche per condizionare le stesse indagini ciò fa capire che se la verità è un'altra come abbiamo ipotizzato prima può dar fastidio può dar fastidio a tanta gente e allora il capo respiatorio viene individuato in maniera molto facile in questo marito che diciamo per il carattere che ha è sempre stato una voce fuori dal coro ma che non aveva in tutti i casi mai avuto un un feeling un buon feeling con la famiglia nemmeno con gli altri amici tutto sommato per cui appariva la persona adatta su cui far coinvolgere convergere cioè le responsabilità anche perché dava fastidio questo fattore economico che alla fine tutti i benefici economico fossero anche i suoi purtroppo Sebastiano Sarevite si è rivelato meno stupido di quanto loro pensavano si è costituito un alibi per cui il 14 di dicembre per cui per cui chi lo accusa si è trovato con un pugno di mosche in mano eppure nel caso di una morte che fosse certificata intorno al 3 di gennaio non si potrebbe sostenere che lui abbia avuto il modo il tempo la capacità la possibilità di tenere prigioniere una persona per cui con buona pace di tutti credere in questa favoletta che è stata spacciata e che ancora adesso viene data per certa è qualcosa di ignobile e che non è servito a nulla a nulla oggi invece ancora oggi partendo proprio dal mistero di queste telecamere di questi orari sfarzati che non lo sono perché alcuni dati non sono stati resi noti si potrebbe aprire insomma il caso a nuove ipotesi cioè qual è il ruolo della Resinovic perché alcune cose non sono state fatte alcuni accertamenti qual è il ruolo esatto della Resinovic non poteva essere il ruolo che si vuole dire della piccola pensionata che andava dall'anziana così no aveva un ruolo perché Liliana aveva delle capacità enormi a livello intellettivo aveva un ruolo particolare al mio modo di vedere aveva qualche funzione particolare al mio modo di vedere e stava in qualche giro particolare al mio modo di vedere quindi si potrebbe aprire il caso a nuove ipotesi che inquadrerebbero questa storia nell'albio di una storia diciamo fra virgolette segreta fatta di operazioni economiche di informazioni di un certo tipo ma questo lo devono stabilire gli inquirenti ma per stabilirlo devono percorrere questa strada per cui alla fine si deve partire da chi sono costoro che hanno ucciso la Resinovic e che l'hanno portata lì che l'hanno depositata lì ma chi sono da dove parte tutto questo perché una storia così complicata la si vuole banalizzare non c'entra niente la storiella d'amore non c'entra niente è un enorme scudo di fronte alla verità questo è quanto per oggi amici miei grazie grazie amiche miei amici miei cerchiamo di dare un contributo alla verità al ragionamento fatemi sapere cosa ne pensate condividete il video ma anche per far sapere agli altri cosa pensa una voce fuori dal coro una voce che dice cose ragionevoli non che ripete le stesse storielle per fare gossip andiamo a condividere queste idee con chi ancora non le conosce con chi davvero crede ancora alle favole cerchiamo di fare la nostra piccola parte per la verità grazie amici miei un abbraccio e buona giornata a tutti quanti voi ciao